Il maltempo del 15 settembre scorso, che nelle Marche ha provocato morte e distruzione, ha fatto tornare in auge il problema della manutenzione dei corsi d'acqua. Sull'Arzilla, però, è da tempo che i residenti chiedono interventi a chi di competenza, visti i precedenti. L'ultima drammatica alluvione risale al 1979, quando l'esondazione del torrente provocò gravi danni e disagi, e oggi lo scenario preoccupa gli abitanti della zona. La vegetazione, infatti, l'ha completamente invaso e sulle sponde ci sono grossi alberi pericolanti. Alla luce anche degli ultimi fatti che hanno riguardato la Regione Marche, che cosa chiede il Comitato? Allora, effettivamente ogni volta che ci sono questi disastri, purtroppo, si ritornano a sue stesse problematiche. Mi ricordo quando era caduto il ponte a Genova e tutti guardavano i ponti, eccetera, eccetera. Oggi, con il disastro di Cantiano e soprattutto di Senigallia, dove sono purtroppo decedute delle persone, si ritorna sulla problematica di manutenzione dei fiumi, dei torrenti. Allora, noi qui siamo sul lungo il torrente Arzilla e sicuramente questo è uno dei corsi d'acqua più pericolosi della nostra zona. Perché è pericoloso? Perché, come possiamo vedere, tutta l'estate è stata in secca completamente, per cui cinque mesi senza acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari in un caso di bomba d'acqua, che purtroppo ci possono essere, ci sono state anche qua, il torrente esonda. Esonda dove? Prima aveva uno spazio, aveva delle golene dove erano pulite, dove l'acqua poteva correre tranquillamente. Oggi la situazione è questa. Perché? Perché qui purtroppo abbiamo perso il concetto della manutenzione. Da una parte, ha proseguito Pucci, sia la stampa che i politici si stanno interessando e attivando per risolvere il problema. L'importante è che non si distrugga tutto, ha proseguito, e che si pensi anche alla piantumazione di alberi lontano dall'alvio. In passato qui era pieno di salici e pioppi. Cerchiamo di fare manutenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire farla in maniera continuativa. Non un'operazione spot, non stanziare delle somme esorbitanti oggi perché è venuto l'evento. Dobbiamo, in maniera costante, per cui costante negli anni, fare manutenzione. Quando sono intervenuti l'ultima volta? Allora, gli interventi, diciamo, i grossi interventi sono ormai decenni, per cui non sono stati fatti niente. Lo scorso anno, però, siamo riusciti, grazie al consorzio di bonifica delle Marche, abbiamo cercato di pulire una parte di 400 metri, diciamo, sia a destra, sia dell'argine a destra che dell'argine a sinistro, per cui abbiamo creato un collegamento tra il Ponte Mimmo e la zona di via Paleotto, diciamo, al collegamento della pista ciclabile, dove pulendo l'alveo, per cui abbiamo tolto tutti quegli alberi che andavano a creare delle ostruzioni naturali, diciamo, ma delle dighe, delle vere dighe, perché questo è il problema. Lavorare solo sulla foce, però, non è abbastanza, secondo Pucci, infatti il torrente è lungo 23 chilometri e l'attenzione deve essere spostata anche verso le casse di espansione alla Travia, Centinarola o ai Maggiotti. In caso di esondazione, Chio, che cosa è maggiormente a rischio? Sicuramente la zona che è maggiormente a rischio è quella della foce, diciamo, dove c'è un centro abitato che purtroppo è sotto il livello, cioè, a livello dell'Arzilla, gli argini sono stati creati, però quella è la parte più pericolosa, perché ci abitano le persone. Qua potrebbe arrivare l'acqua di una bella ondata, però, diciamo, il rischio, secondo me, è minore. L'importante è per questo che non bisogna solo intervenire sulla parte finale, bensì su tutto il corso, diciamo, per cui un lavoro a monte, dove sicuramente la creazione di un parco naturale, un parco fluviale, potrebbe aiutare moltissimo a tutti, compreso gli abitanti di Via dell'Arzilla.